A Siracusa, siracusaoggi.it, parla di scadenza Tari alle porte, avvisi in ritardo, 3.000 non consegnati, niente mora o interessi però. Migliaia di siracusani hanno ricevuto nei giorni scorsi l'avviso della Tari, la tassa sui rifiuti. La prima rata è già in scadenza, fine aprile. La seconda andrà pagata entro maggio. Due mesi di passione Tari, quindi per gli utenti costretti a tirare la cinghia per via di ritardi imputabili agli uffici e di cui, nelle settimane scorse, ha preso atto anche il Consiglio Comunale, dando il via libera comunque al nuovo piano di pagamento che non prevede, almeno in avvio, la bimestralità, ma parte a sprombattuto con due rate da saldare di fatto nel giro di 30 giorni. C'è però chi non ha ricevuto a casa l'avviso e suda freddo al pensiero di dover correre per evitare more o interessi. Sono circa 3.000 su 54.000 totali, quelli ancora non recapitati. Entro domani raggiungeranno i relativi domicili, ma venerdì significa avere due giorni di tempo per organizzare il pagamento entro la scadenza del 30 aprile. L'assessore Gianluca Scrofani ha però già chiarito che in caso di ritardo non scatteranno costi accessori di mora o interessi.